Era prevedibile, considero ormai questa generazione videoludica e alcune testate videoludiche, tossiche e deleterie non solo per l'industria dei videogiochi, ma anche per i videogiocatori di vecchia data come me. Da dove vogliamo cominciare? Dalla Ubisoft che dimanda a data da destinarsi Prince of Persia? Sì, iniziamo da questo. Circa due anni fa venne liccata, cioè fatta circolare la notizia che la Ubisoft fosse a lavoro su un remake del primo Prince of Persia. Però, piano con le considerazioni, facciamo un passo indietro e un lapidore cap. Prince of Persia è un vecchio videogioco sviluppato nel lontano 1989 ed era un platform archito in 2D, seguito da Prince of Persia 2 The Shadow of End Flame e un deludente Prince of Persia 3D. Diversi anni dopo, nel 2003, per l'esattezza, la Ubisoft acquistò il franchise e iniziò la tetralogia delle sabbie del tempo. Quattro titoli così costruiti. Le sabbie del tempo, Spirito guerriero, i due troni e per ultimo, ma in linea temporale inserito tra il primo e il secondo capitolo, le sabbie dimenticate. Ovviamente in questo video tralascerò gli altri 6.000 titoli usciti per 3DS o altre piattaforme, ma citerò un Prince of Persia del 2008 abbastanza deludente. Sviluppato in self-shading, un tentativo fallito di riprendere in mano il franchise e di spolverarlo. Tutto bello, tutto figo, finché alla vista del trailer di Prince of Persia e le sabbie del tempo remake, l'utenza, le testate videoludiche e tanti youtuber non storsero il naso. Eh ma sembra un gioco di 10 anni fa, motore grafico vecchio, espressioni facciali ignobili, animazioni bruttissime! Ma forse vi siete dimenticati che è il remake di un titolo del 2003, di quasi 20 anni fa? Non siamo davanti a un rebutto o a una nuova IP, bensì ad uno spolvero di un gioco di tantissimi anni fa che la Ubisoft voleva mantenere il più fedele possibile all'originale. Tanto i commenti e le opinioni sono state tossiche che hanno portato la Ubisoft non solo a rimandare il titolo due volte, in quanto doveva uscire a gennaio 2021 o poi rimandato a marzo 2021, ma per di più ha destinato ad una data di uscita non più indicata. E ciò, come ci fa notare il buon falconero, può portare a tre scenari diversi. 1. Il gioco esce fra qualche mese con qualche bug corretto, qualche pezza qui e lì, ma perlopiù come lo abbiamo visto nel trailer. 2. Il gioco esce fra un anno o più, completamente rifatto da capo per far contenti rompi i coglioni. 3. Il gioco si decide di cancellarlo definitivamente e sticarsi. Bene, ottimo, complimenti, siete riusciti a boicottare Prince of Persia l'esabito del tempo remake, ma immagino che siate tutti felici e orgogliosi di giocare con il vostro Cyberpunk 2077, che per voi è perfetto e merita il voto 9,5 su 10 dato dalle testate videoludiche. Per non parlare di The Medium, titolo decisamente sottotono per quanto riguarda l'aspetto tecnico, con cali di framerate al limite del ridicolo, ottimizzato come un calcio alle palle con la rincorsa e con una trama che ha un miscuglio fra Silent Hill, Resident Evil e Siberia e tutti i titoli più gettonati degli anni 90. Niente di nuovo e innovativo e per di più anche fatto col culo, ma siete tutti contenti di giocarlo, immagino. E intanto rompiamo le palle dagli Ubisoft per i remake di Le Sabbie del Tempo e questi iniziano ad avere dubbi sul far uscire il gioco. Ovviamente si fa lo stesso rompendo le palle alla Blizzard per Diablo Immortal e quelli orano solo se la stanno prendendo più che comoda con quello, ma in più posticipano anche Diablo 4 e Overwatch 2 per paura di essere fischiati e presi a pece in faccia un'altra volta. Scalebound non vi ricorda nulla? Un titolo cancellato perché aveva generato troppo hype sui videogiocatori che si erano immaginati chissà che gioco e che a quel punto la Microsoft decise di cancellare per paura di non riuscire a soddisfare appieno le aspettative dei videogiocatori. Ragazzi abbiamo anche la croce di aver causato la cancellazione di un titolo dal nome Legacy of Kane Dead Sun indubbiamente cancellato per paura di entrare su un mercato e deludere tutti gli stronzi che all'epoca volevano giocare soltanto titoli first person shooter. Molti di voi neanche hanno idea di cosa sia la saga Legacy of Kane quindi vi prego andatevi a documentare perché vi perdete una delle saghe più belle degli ultimi vent'anni. Però immagino tutti felici con in mano il Joypad a dosannare Cyberpunk 2077 o The Medium titolo che secondo il mio parere fosse stato fatto dai Dontnod sarebbe stato un capolavoro altro che quelle mezze seghe di Bloober Team e lo ripeto questa generazione videoludica e tante troppe testate videoludiche o youtuber sono soltanto tossici e deleteri per l'attuale industria di videogiochi e per noi videogiocatori di un tempo in un'epoca in cui ormai si guarda solo la grafica osannando poi titoli che sono buggati proprio nella grafica ma dandogli comunque un voto di 9 su 10. Fatevi un favore giocate la trilogia delle sabbie del tempo su PlayStation 2 recuperate una PlayStation 2 e i tre titoli della saga delle sabbie del tempo poi ditemi se non ho ragione io se a causa di una community tossica non ci è stato privato il piacere di tornare a mettere mano a qualcosa che la Ubisoft stava cercando di mantenere il più fedele possibile all'originale ma a voi no non va bene se non si chiama Call of Duty non vi piace e non a caso ho citato Call of Duty un titolo che più o meno usa lo stesso un telegrafico da 10 anni e nessuno dice nulla dovreste di elaborare la vostra concezione di capolavoro quando parlate di un videogioco se per voi poi i capolavori sono titoli come The Medium o Cyberpunk 2077 e se poi vi cito un The Secret of Monkey Island manco sapete di che sto a parlare EGA 16 colori l'audio parlato manco esisteva e i suoni erano in MIDI in cazzo di beep di diversa tonalità eppure è un titolo che chiunque conosce non esita a considerare il miglior videogioco di tutti i tempi però voi continuate a guardare la grafica andate andate grazie